Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere, ipnosi e soluzione. Oggi parleremo dei vantaggi che l'ipnosi e soprattutto l'ipnosi di ICS, il metodo del dottor Claudio Saracino dà alle persone. Quali vantaggi dottore mi dà l'ipnosi di ICS se la utilizzo? Beh, uno dei tanti grandissimi vantaggi è l'equilibrio emotivo. Essere più rilassati, avere più energia, più voglia di fare, più concentrazione, più, 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 più voglia di vivere, più felicità, più allegria, più voglia di ridere e sorridere, più tolleranza, più positività. Ecco cosa ti può dare l'ipnosi di ICS. Se tu la utilizzi come io ti spiegherò, ok? L'ipnosi calma tutti i nervi, dalla testa ai piedi, tutto il sistema nervoso centrale e periferico. Ogni parola che tu ti dici, ti dirai o io ti dico, qualcuno ti dirà utilizzando l'ipnosi ha un effetto benefico dal primo all'ultimo dei tuoi nervi, dei tuoi muscoli, delle tue ossa, dei tuoi organi, delle tue cellule, dei tuoi tessuti, della tua pelle, ovunque ragazzi, ok? E non è un modo di dire. L'ipnosi rispetto ad altre discipline agisce sulla causa, agisce sul corpo e sulla mente e sull'esistenza, sulla stessa vita, sui nostri comportamenti, su ciò che attiriamo, su ciò che siamo. Ripeto, come ripeto spesso non devi credere a nessuna parola di ciò che ti dico, devi soltanto fare, 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 sì, fare. Come è successo a me tantissimi anni fa, che da scettico e diffidente ho iniziato piano piano dopo tantissimi anni, circa vent'anni fa, da autodidatta, ad avvicinarmi a delle discipline molto trasparenti e molto comprensibili come la PNL, programmazione neurolinguistica e poi ho letto libri di pensiero positivo, eccetera, eccetera, fino a fare il viaggio del salmone andando al contrario e risalendo alla mamma delle mamme da cui discendono poi tutte altre discipline che è l'ipnosi, ok? Passando attraverso Milton Erikson che è stato un grande dell'ipnosi terapeutica morto nel 1980 e da cui si ispira il 99,9% di tutti coloro i quali fanno ipnosi nel mondo e in Italia, l'ipnosi conversazionale, l'ipnosi fatta a modi discorsi che purtroppo però non tutti sanno fare bene. Poi esiste un altro tipo di ipnosi, l'ipnosi di Hellman, de Hellman, un altro contemporaneo di Milton Erikson anche se non era lui medico, quest'ultimo, per arrivare all'ipnosi shock da spettacolo, istantanea, classica, bene, tutti questi tipi di ipnosi non hanno nulla a che vedere con il mio tipo di ipnosi che deriva dalla dottoressa Rina Brunini e dal professor Michelangelo Garai, Metodo Garai di Los Angeles Beverly Hills, famosi ipnoterapeuti latinoamericani di Los Angeles, con la quale hanno aiutato a vivere meglio molte star hollywoodiane e moltissime centinaia di migliaia di persone povere a Los Angeles e in Sud America, Nicaragua, America Latina, compagnia bella. Va bene? Dove io racconterò poi questo nel mio libro. Fammi tutte le domande del caso, utilizza l'ipnosi, lo dico, guarda, disinteressatamente perché a me non interessa, il mio scopo è aiutarti a capirti, a capire che esiste un evento d'uscita, un mezzo, uno strumento come l'ipnosi che ti può veramente, radicalmente cambiare la tua vita, farti svegliare la mattina senza quel peso al petto, senza tristezza, con tanta positività, felicità ed energia e salute, aggiungo a benessere, psicofisico, ok? E il miracolo farà la tua testa, l'ipnosi è un altro che una tecnica che guiderà la tua mente, a fare il miracolo della tua stessa mente. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti su questo canale YouTube Benessere L'Ipnosi e Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere L'Ipnosi e Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e aspetto le tue domande, ok? Un bacio e un abbraccio, al prossimo video dal dottor Claudio Saracino. Grazie.